Ci stiamo soffermando molto sul degrado di via Mediterraneo, borderline tra Talsano e Lama. Abbiamo analizzato varie problematiche, ma ce n'è una molto importante che riguarda proprio la sicurezza urbana. Vedete qui c'è questa curva, la strada è abbastanza stretta e c'è il grosso problema che qui purtroppo molti automobilisti, devo dire in modo incivile, parcheggiano l'auto proprio in prossimità sulla curva, il che rende pericolosissimo il tratto. E puntualmente si sono verificati incidenti. Per cui i cittadini hanno chiesto di far sì che venga apposta la segnaletica che impone il divieto di sosta, per ovvie ragioni. Anche perché vedete proprio la conformazione della strada con la presenza di questo complesso abitativo. Ovviamente restringe la carreggiata, per cui nel momento in cui una macchina si mette e qui chi cammina ha la visuale ostruita e quindi gli incidenti si verificano. Perché è chiaro, una macchina qui, il complesso che come marciapiede è bello esteso, e chi cammina non ha modo di avere una visuale idonea a prevenire scontri con altre macchine. Cosa che puntualmente, lo ripeto, puntualmente si verifica. Questo per quanto riguarda la viabilità in questo tratto, ma vedete anche qui si ripropone la stessa problematica degli alberi. Alberi che non vengono proprio controllati, alberi che si ripiegano su se stessi e che quindi potrebbero cadere da un momento all'altro. Vedete, sono sempre più ricurvi. E altra cosa importante, grave, qui c'era l'isola ecologica, un'isola ecologica che ora è praticamente, non so, dismessa, abbandonata, risulta anche una parte aperta e quindi diventa così meta di soggetti che vi entrano, quindi una zona assolutamente incontrollata. Ecco, via Mediterraneo. Ci sono venuto varie volte da giornalista. Ora mi auguro di tornarci da giugno da sindaco proprio per dare risposte ai cittadini. Mi sono candidato per passare dalle denunce giornalistiche ai fatti. Ai fatti, sottolineo questa parola, perché finora l'amministrazione Melucci ha saputo solo fare chiacchiere, ha saputo solo presentarsi in campagna elettorale e fare promesse, promesse, promesse. Dopo quattro anni e mezzo il degrado è identico, anzi peggiore di prima. C'è un'altra Taranto da costruire insieme. Con me, candidato sindaco, con il movimento Taranto senza ilba. Grazie a tutti.